ciao a tutti cari amici smart io sono simone e ben ritrovati sul mio canale vi è mai capitato questa cosa di dover cercare un filo o di collegare una qualsiasi cosa e avete tutto questo per casa o direttamente sulla scrivania a me si è capitato forse ho una soluzione forse almeno per la vostra tastiera e il vostro mouse dopo la sigla lo vediamo insieme ciao eccoci qua ecco la soluzione che vi ho promesso almeno per la tastiera e il vostro mouse togliamo tutti questi cavi che che al momento non ci servono forse ho distrutto pure qualche cavo ok così e cosa vi presento eccola qui è una tastiera wireless con un mouse sempre wireless e funziona con con una sua pennetta usb inserita direttamente al vostro pc o notebook adesso lo andiamo facciamo l'unboxing e lo proviamo insieme io non ho mai provato sono sincero non ho mai provato ok è della marca jolly comb lo potete trovare su amazon veramente a pochissimi euro vi lascio sotto in descrizione del video tutti i link se volete andare a comprare o volete qualche informazione in più che comunque vediamo anche qui dietro è compatibile con tablet pc e laptop ok le proprie dimensioni così mi pacco pesa la tastiera pesa solo 431 grammi e il mouse soltanto 85 grammi ok qui ci fa vedere il mouse e la tastiera alla scatola vediamo nient'altro una tastiera questi e così via mettiamo una parte la scatola ok andiamo aprire ok così si presenta la cassa la confezione qui c'è il mai la tastiera con la sua plastica che togliamo ok poi c'è il mouse sempre nella sua plastica lo togliamo il mouse e qui c'è un piccolo libretto di istruzioni dovrebbe essere in inglese si è in inglese quindi ci dice come inserire la batteria e così via ma adesso lo vediamo insieme lo facciamo insieme direttamente al mio notebook così sicuramente vedremo la sua funziona se realmente è utile vedete che non c'è neanche un cavo semplicissimo è bello ok quel mouse dietro abbiamo vedete una usb che va inserita al pc o al notebook naturalmente sia il mouse che la tastiera funzionano con batteria vedete che è veramente di qualità discreta la plastica buona qui dietro ci sono dei gommini e ci sono anche i piedini per tenerla in alto per tenere un po alzato se preferiamo usarla così attacce sembra anche una buona tastiera ok adesso andiamo a inserire le batterie così non andiamo a provare ok allora più o meno così vedete si è già accesa una lucetta per vedere che funziona e qui la batteria va messa della tastiera un piccola 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 pressione tiriamo un po a destra vedete va inserita una batteria una doppia ok vediamo la doppia e la mettiamo qui si è acceso una piccola spia benissimo adesso lo andiamo a provare è esposto un attimo la web che la videocamera così proviamo come intanto magari prima inseriamo insieme la usb ok inserite usb ok vedete è stato riconosco installazione del dispositivo sta installando il dispositivo sposto un attimo la webcam e poi lo vediamo insieme allora ho connettato la usb alla notebook come per magia passato due secondi ed ecco che il mouse funziona vedete senza nessun problema il mouse funziona la rotellina andare su e giù ed è mi sembra abbastanza silenzioso anche premendo i tasti sembra abbastanza silenzioso quindi veramente con il mouse ci siamo la precisione del movimento ci siamo e qui va bene per quanto riguarda la tastiera ho notato che e alle impostazioni in tedesco comunque non è non c'è un gran problema perché si può comunque tutte le lettere per scrivere in italiano ci sono anzi c'è qualcosa in più perché ci sono gli accenti che si utilizzano con la lingua tedesca e così via poi ci sono anche dei tasti di diciamo di che fanno attivare delle delle funzioni particolari con un attimo che muovo la mia webcam abbiate la mia fotocamera abbiate pazienza così lo vediamo meglio così scusate tutto il movimento ok c'è questo tasto questo tasto qui fn che fa delle funzioni speciali che comunque su tutte le tastiere ci sono non su questa mia e poi ci sono dei tasti come dire delle delle scorciatoie per esempio se noi prendiamo premiamo fn premiamo questo e infine se non mi sbaglio vedete è una calcola si apre la calcolatrice vedete si è aperta la calcolatrice ok così come comunque possiamo chiudere con altri tasti particolari qui vediamo si apre il programma di posta dove ci abbiamo impostato qui si apre la posta di windows che noi outlook non ce l'abbiamo è comunque sì si può abbassare anche alzare il volume abbassare e alzare il volume ok e funziona veramente bene oppure vogliamo fare la ricerca su google direttamente premiamo così ci si attiva la pagina di google oppure vogliamo andare alla home di google vedete va alla home di google così si accende il programma di di musica che non abbiamo impostato e va bene la tastiera scrive veramente molto bene e veloce senza nessun mi piace perché meccanica quindi mi piace veramente mi piace mi piace tanto questa tastiera sicuramente la userò come tastiera principale perché è stato un buon acquisto che vi ripeto comprato con pochissimi euro su su amazon e vi lascio il link in descrizione il mio video si chiude qui è molto un video molto breve volevo solo presentarvi questo questa piccola soluzione per buttare per togliere un cavi dalla vostra scrivania o dalla vostra casa per la facilità delle vostre signore le vostre mogli e fidanzate e così via io adesso vi saluto se vi è piaciuto il video date un bel like se non siete fatti iscrivetevi al canale condividete sotto in descrizione ci sono tutti i link delle mie pagine di cupone sconti sia facebook e telegram date un'occhiata perché tutti i giorni ci sono cose molto molto interessanti e ci vediamo la prossima ciao ciao amici smart ciao ciao